Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul mio canale. Oggi facciamo un piccolo tutorial sullo spray a peperoncino. Sapete che ogni tanto facciamo qualche stage in palestra però ne approfittiamo di questa quarantena per fare un piccolo tutorial teorico diciamo. Poi appena riusciremo ad allenarci tutti insieme in palestra faremo uno stage pratico proprio sull'utilizzo dello spray. Questo qua è uno spray diciamo più da ragazza. Vedete che ne fanno di vari modelli. Questo è molto carino e anche molto femminile. È anche curato abbastanza bene nei particolari. C'ha un piccolo forelino qua che si può utilizzare come porta chiavi, si può attaccare alla cintura dei pantaloni. È un oggetto carino. Ok? Comunque io preferisco quello military da buon maschietto. Allora scherzi a parte torniamo a noi. Che cos'è questo? Allora diciamo che lo spray è uno strumento di autodifesa che nebulizza un principio attivo naturale a base di oleosin capsicum. Che altro non è che è un prodotto comunque irritante a base vegetale basato su derivati della capsicina che è il principio attivo del pepe, del peperoncino e altre piante generiche capsicum. Non ha attitudine a recare offesa alla persona però su questo dopo mi soffermo un attimino. Per essere liberamente acquistato e detenuto deve avere delle particolari caratteristiche. Allora deve contenere una miscela non superiore ai 20 ml totali del prodotto. Se vedete qua infatti è 15 ml. Spero che si veda perché io ho il mio cellulare e faccio quello che posso. Quando il mio canale avrà tantissime visualizzazioni allora vi comprerò una fotocamera come si deve. No sto scherzando. 15 ml. Ok? Quindi contenere una miscela non superiore ai 20 ml di prodotto. Contenere una percentuale di olio sincapsicum disciolto non superiore al 10%. Spero sempre di riuscire a la sensazione massima di capsicina e capsaicinoidi mi sembra si chiamano totali pari a 2,5%. La miscela erogata dal prodotto non deve contenere sostanze infiammabili corrosive tossiche cancerogene o aggressivi chimici mi raccomando. Deve contenere solo la sostanza che vi ho detto. Devono essere sigillati all'atto della vendita e muniti di un sistema di sicurezza contro l'attivazione accidentale. In questo caso vedete che questo prodotto è nuovo. spero che si vedano. Ci sono praticamente delle... c'è la plastichina ancora ai lati. Vedete quattro tacchettine di plastica. Nel momento in cui andrò a fare pressione sul tappo queste plastichine si romperanno e non ho più la, diciamo, la sigillatura. Ok? Quindi devono essere sempre sigillati all'atto della vendita. E avere una gittata utile non superiore ai 3 metri. Se supera i 3 metri la gittata, che comunque ha già di suo un metro, un metro e mezzo, anche in alcuni casi anche due, digitata del prodotto, se supera i 3 metri non è legale. Esistono anche in commercio spray che si differenziano per il tipo di getto del prodotto. C'è il getto balistico e getto conico. Ok? Dopo vi spiegherò che cosa vuol dire. Inoltre è obbligatorio che su tali prodotti indipendentemente, ricordatevi, dal paese di produzione siano riportate in lingua italiana visibile e leggibile una serie di indicazioni. Praticamente ci deve essere la denominazione legale o merceologica del prodotto. Ok? Il divieto di vendita è minori degli anni 16. Io sto parlando quando il prodotto, insomma, tutto quello che dovrete leggere sulla confezione. I materiali impiegati, i metodi di lavorazione, la quantità di miscela e tutte le sue componenti. Le istruzioni, le precauzioni d'uso e d'indicazione che l'uso dei prodotti è consentito solo per sottrarsi a una minaccia o a un'aggressione che ponga comunque in pericolo la propria incolumità. In etichetta almeno il simbolo di pericolo e l'avvertenza di irritante. Ok? Quindi denominazioni legale o merceologica del prodotto, nome, regione sociale, marchio, sede legale del produttore. Ok? Ovvero se i prodotti vengono dall'estero o dall'importazione. Però ci deve essere sempre la regione sociale. Esatto, la regione sociale del prodotto. Ok? Questi sono piccoli particolari che fanno la differenza. In più guardate che c'è una scadenza sotto, in questo caso il mio scade, il dicembre del 2021. Si dovrebbe leggere. Ecco, passata quella data, non è che il prodotto non funziona più. Il prodotto funziona, però secondo me, sai, lo lasci in macchina, non lo utilizzi, può evaporare un po' il prodotto. Il gas all'interno può subire delle modifiche. Se lo lascio sempre a caldo, io non mi baserei dopo come efficacia al 100%. Io lo cambierei una volta passata, insomma, tale data. Poi ognuno può fare quello che vuole, però siccome è un prodotto che io spero di non usare mai, ma se lo userò sarà per salvare la mia vita ed eventualmente per scappare, diciamo che la data di scadenza io ne terrei conto. Allora, anche se dicono che è un prodotto che non... Diciamo che è specificato, uno prende lo spray, è specificato che non causa lesioni, però viene punita la condotta violenta di chi usa in maniera in proprio dispositivo, ok? Se lo litigo con un amico al lavoro e gli spruzzo lo spray in faccia, non è un utilizzo proprio da difesa personale. È consentito solo a condizione però che l'utilizzo sia finalizzato sempre alla legittima difesa, ragazzi, ok? Quindi dunque solo in caso di estrema necessità e a tutela della propria incolumità fisica, purché sia conforme alle caratteristiche tecniche fissate che io vi ho elencato prima. Perché, qualora lo spray, anche pur usato per legittima difesa, non dovesse corrispondere ai requisiti ministeriali, viene considerato come arma impropria, da luogo all'applicazione di sanzioni penali o amministrative, ricordatevelo, a seconda della pericolosità del prodotto. Esempio, un contenuto di gas diverso dall'oliosincapsicum, ci può essere qualsiasi altro gas che però non è oliosincapsicum, oppure contenuto superiore ai 20 ml, ok? E a 10% di oriosincapsicum, stessa cosa, possesso ingiustificato, oggetto atto ad offendere. Perché se io lo uso per scopi diversi dalla legittima difesa o altro scopo, anche se giustificato, si integra il reato di porto di oggetti atti ad offendere, trattandosi palesemente di un oggetto atto ad offendere, ragazzi, quando anche a scopo difensivo, poiché induce l'accecamento sia pur temporaneo della persona su cui il volto viene spruzzato e quindi con effetto indubbiamente lesivo e fortemente irritante. Attenzione perché poi c'è anche il reato di legioni personali di cui l'articolo 582 del codice penale con le conseguenze, le conseguenti insomma aggravanti, ok? Adesso non entro in uno specifico, però alcune cose me le ricordo. Però diciamo che in linea di massima è un oggetto che può aiutarci a uscire da un'aggressione. Che effetti ha l'olio sincapsico quando io lo vado ad utilizzare, a contaminare un eventuale aggressore? Allora, si ha, diciamo, un aumento della pressione arteriosa, se hanno difficoltà di deambulazione, diciamo la perdita del controllo motorio, si ha l'irritazione dell'epidermide, quindi all'orossamento, perché comunque sempre, insomma, l'olio sincapsico, essendo il peperoncino, la pelle comunque si irrita, l'irritazione indubbiamente degli occhi, la rinorrea, cos'è la rinorrea? La rinorrea è, diciamo, l'eccesso di muco, difficoltà respiratorie, soprattutto per soggetti asmatici o con particolari allergie al peperoncino. Attacchi di panico, perché ovviamente quando io lo utilizzo mi faccio un aggressore e quello non vede più nulla, gli brucia il volto, così l'attacco di panico è importante. Insomma, è una cosa abbastanza invasiva. Occhio che può procurare anche l'infarto, in caso di soggetto con disfunzioni cardiache, quindi io non so mai con chi lo vado ad utilizzare, ma questo comunque purtroppo è un altro paio di maniche. Quindi, anche se sulla confezione dello spray specificato che non causa lesioni, ricordatevi che viene punita la condotta violenta, di chiuse in maniera impropriata e dispositivo. E ci tengo a ripeterlo. Ok ragazzi? Mi raccomando. Poi, detto ciò, vi ho già detto che è vietata la vendita ai minori di 16 anni, sono importanti i materiali, in attichetta almeno il simbolo di pericolo o l'avvertenza irritante, mi raccomando. Io vi consiglio di comprarlo sempre magari in un'armeria o in una ferramenta o in qualche supermercato che li vendono, ma se li comprate su internet, tenete in considerazione un po' quello che vi ho detto. Poi, in palestra vedremo poi l'utilizzo di questi prodotti in maniera magari da fare proprio uno stage pratico. Ok? Adesso vi dirò più o meno come utilizzarlo. Ricordatevi anche che lo spray non è che sia legale in tutti i posti, non è che se io prendo l'aereo e vado da qualche parte e me lo porto dietro. Io mi ricordo che in America, ad esempio, in Canada è illegale, l'uso è nostro personale, è in Brasile. In Europa, nel Belgio, nella Danimarca, nella Finlandia, nella Grecia, nell'Ungheria, Irlanda, Islanda, Malta, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Turchia e Regno Unito non è legale. Per quel che riguarda invece l'Asia, c'è il Bangladesh, la Cina, Hong Kong, l'Iran, il Vietnam, il Giappone e il Singapore. Quindi per farvi capire che non è legale in tutti i paesi, purtroppo. Allora, prima di farvi vedere come si utilizza velocemente, vi voglio parlare di decontaminazione perché può capitare che, allora, io vi ho detto che ci sono due tipi di spray balistico e quindi al gel è aggetto conico, ok? Allora, è ovvio che se ho uno spray al gel lo posso usare anche in un ambiente chiuso perché va direttamente a indirizzarsi sul volto dell'individuo e non va a contaminare gli altri e noi stessi, però ci vuole molta più mira, ok? Sono spray che esistono in commercio. Però in questo caso questo va a nebulizzare, ok? Quindi non si può usare in un luogo chiuso, altrimenti rischiamo di contaminarci anche a noi stessi, purtroppo, ok? Quindi in ascensore, in autobus non si può utilizzare e esistono quegli altri tipi di spray a gel. Quindi ci sono quelli aggetto balistico e aggetto conico. Se ci contaminiamo, allora, io, allora, se in caso lo inaliamo, quindi non ci siamo, diciamo, contaminati gli occhi, ma inaliamo lo spray, è la prima cosa che consiglio è andare all'aria fresca, fuori, all'aperto. Risciacquatevi con acqua fresca per circa 20 minuti fino al termine dell'effetto, diciamo. In caso di contaminazione degli occhi, invece, usate acqua non calda perché il calore dilata i pori e aumenta il rischio di contaminazione, ok? Risciacquatevi con acqua fresca e sapone neutro in caso di contatto con l'epidermide, quindi la pelle. In caso di ingestione, speriamo ben di no, sciacquate le labbra con acqua fresca, fate dei gargalismi con acqua, sputate l'acqua contaminata, la capsicina non è molto solubile in acqua, mi raccomando. E ovviamente, richiedete l'intervento di personale medico specializzato. Non usate detergenti chimici, oleosi, alcol, eccetera. Poi, come si utilizza lo spray? Allora, lo spray viene impugnato sempre tenendo la mano a martello, ok? Aspettate che asso un attimo qua. Ok, diciamo, in questo modo qua. Ovviamente senza andare a occludere il foro di uscita dello spray, mi raccomando, ok? Mano a martello, non così, il pollice sopra, ben saldato. Rivolgete lo spray verso il vuoto dell'aggressore. Azionate l'effettuando, sempre dei movimenti circolari. Defluite sul lato dopo l'azione per evitare autocontaminazione, non verso la nube, all'indietro, con vari spray circolati, circolari, e proteggete sempre gli occhi durante l'azione. Tenetelo sempre a portata di mano, quindi pronto all'uso, diciamo, comodo. Quando vi dico proteggete sempre gli occhi durante l'azione, vuol dire che io tengo magari, come insegniamo, infatti dico sempre integrate l'utilizzo dello spray con tecniche di difesa personale. Noi in palestra diciamo sempre di tenere una mano avanti per dire all'aggressore eventualmente non ti avvicinare, quando andremo ad utilizzare lo spray la mano davanti passerà davanti al viso in modo tale che io non mi contamino ma allo stesso tempo vedo quello che sto facendo, quindi una mano davanti al viso vado a fare praticamente questo cambio di mano, ok? Non ti avvicinare, lo utilizzo e faccio questo cambio di mano. Uno, due, ma queste cose le faremo poi in palestra con degli stage apposta. Ovviamente non useremo uno spray vero, useremo dei profumi che andremo a fare le nostre prove pratiche diciamo a limite improvumiamo un po' la palestra quindi familiarizzare con il proprio dispositivo allenarsi anche con degli spray da poco a fare dei movimenti sempre mi raccomando circolari conoscere appunto come, dove, quando utilizzare lo spray come vi ho detto e niente diciamo che questo è un oggetto a tutti gli effetti valido per la difesa personale e anche in alcuni casi è anche carino da portarsi dietro. Con questo è tutto e niente ci vediamo al prossimo tutorial e speriamo che finisca presto questa quarantena in modo tale da poterci allenare a breve in palestra tutti insieme e fare anche uno stage apposta su questo tipo di oggetto. Ciao a tutti alla prossima Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie.